Femminicidio di Anastasia, in aula Pesaro il marito che rischia l'ergastolo. Impennata di truffe, CNA e Carabinieri a difesa dei pensionati. Sindaco di Pesaro, 5 stelle, chiedono di essere coinvolti nella scelta del candidato. Inaugurazione Pesaro 2024, regole e programma alla Vitrifrigo Arena. La VL corre in ripari, ingaggiato Mac Duffy. Buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati a Rossini, News, il telegiornale del canale 80 che in questa edizione di mercoledì 17 gennaio apriamo con la cronaca giudiziaria. Perché a 14 mesi dal femminicidio a Fano della 23enne ucraina Anastasia è cominciato oggi in corte d'assise a Pesaro il processo a carico del marito egiziano. Mostafa Alashri accusato di aver ucciso la donna con 29 coltellate e aver nascosto il cadavere nelle campagne fanesi. Vediamo il nostro servizio dal Tribunale di Pesaro. A 14 mesi da quel 13 novembre 2022 in cui fu uccisa Fano la 23enne ucraina Anastasia, è iniziato oggi in corte d'assise del Tribunale di Pesaro il processo a carico di Amrallah Mostafa Alashri, 43enne egiziano accusato dell'omicidio della moglie con 29 coltellate nella loro casa fanese di Via Trieste. Oggi Mostafa Alashri era presente nell'aula del Tribunale di Pesaro davanti alla giudice Lorena Mussoni per la prima udienza. Alashri deve rispondere di omicidio e di occultamento di cadavere, visto che il corpo di Anastasia fu ritrovato chiuso in una valigia nelle campagne fanesi dopo le indicazioni fornite dall'uomo arrestato alla stazione ferroviaria di Bologna mentre era in fuga. Fra gli altri capi di imputazione anche quelli di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate a circostanziare un quadro accusatorio precedente al delitto anche sulla base della denuncia ai carabinieri avanzata ad Anastasia pochi giorni prima del femminicidio. In fasi preliminare, diciamo, vere e proprie, si sono instaurate le parti processuali, si delibereranno adesso su quelle che sono le test, i testimoni indicati da le varie parti, c'è massima disponibilità da parte della difesa di costruire effettivamente ciò che è accaduto in quei giorni e quindi fare emergere la verità con la speranza che la verità del mio assistito corrisponde poi alla verità processuale che si accerterà nell'ambito di questo procedimento penale. Quindi massima disponibilità si dà le prime battute con l'ufficio della procura, questo lo abbiamo già dimostrato nel corso delle indagini, non c'è nessun tecnicismo volto a ostacolare la ricostruzione di quella che è la verità di quello che è accaduto purtroppo alla povera vittima di Anastasia, però c'è una verità diversa da parte del mio assistito, cercheremo di accertare se quando ha fermato il mio assistito corrisponde al vero oppure no. Quindi massima disponibilità da parte di questa difesa, tenuto conto della delicatezza anche del caso che si sta affrontando e del massimo rispetto nei confronti della vittima che, ripeto, in questo processo purtroppo è quella che poi ha patito le pede peggiori essendo stata uccisa. Quindi mai scordarci questo aspetto. Poi il compito della difesa è accertare la verità e il compito dei giudici definire qual è la verità vera e propria rispetto a questi fatti. Alasceri indicò dove ritrovare il cadavere ma di fatto non ha mai verbalizzato di averla uccisa asserendo che nella circostanza fu Anastasia ad aggredirla in quel 13 novembre, però di non ricordare altro. Le indagini espletate hanno fatto emergere un quadro accusatorio che lascia veramente poco spazio ad interpretazioni alternative rispetto a quelle formulate dalla Procura. L'Italia è uno Stato di diritto, pertanto ci aspettiamo che venga fatta giustizia e che sia combinata la giusta pena. Ci sono i maltrattamenti oltre all'omicidio, occultamento di cadavere, quindi diciamo che le circostanze da verificare sono molteplici. Però noi siamo molto fiduciosi. Il mio schistito ha sempre avuto una calma rispetto ai fatti, poi è normale che ci troviamo di fronte a un processo molto delicato con il rischio di una condanna importante. Per cui c'è la preoccupazione rispetto alle conseguenze di questo procedimento, però c'è anche la convinzione rispetto alle sue ragioni, che ripeto sono sue, vanno dimostrate. Il struttura dibattimentale serve proprio ad accertare la velocità o meno di quanto lui afferma. L'avvocato Giuliaci ha seguito anche la vicenda del figlio della coppia, Adam, che ora ha tre anni, è orfano di madre e con un padre che rischia il carcere a vita. Il bambino è in Ucraina, sta con i nonni, è stata ottenuta da poco una deliberazione di una sentenza, quindi di adozione del tribunale ucraino del minore, che è stato quindi adottato dai nonni, dalla mamma e dal papà di Anastasia. I carabinieri di Fanno hanno dato esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal GIP del Tribunale di Pesaro nei confronti di un 38enne ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della ex compagna. Gli accertamenti hanno infatti ricostruito dieci mesi di gravi episodi di violenza psicologica posti in essere dall'uomo ai danni della ex compagna, in alcuni casi avvenuti anche alla presenza dei due figli minori. L'uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento di almeno 500 metri dalla donna. Carabinieri che hanno anche eseguito di ordine di carcerazione nei confronti di un 50enne e di un 43enne, resisi responsabili di maltrattamenti in famiglia per i quali sono stati condannati a due anni e sei mesi di reclusione nel carcere di Villa Fastigi. Nel 2023, appena concluso, sono aumentate del 25% le truffe e i raggiri ai danni degli anziani marchigiani. Una vera piaga sociale secondo l'associazione di categoria CNA che oggi ha chiamato a raccolta i pensionati del territorio per confrontarsi con le forze dell'ordine su tutta una serie di consigli volti a prevenire questi raggiri. Consigli, istruzioni per l'uso e strumenti di difesa davanti a quella che sta diventando una piaga sociale sempre più diffusa, le truffe agli anziani. Pensionati pesaresi chiamati a raccolta questa mattina nella sala del Consiglio Provinciale in occasione dell'incontro organizzato da CNA dal titolo Stop alle truffe, come prevenire frodi e imbrogli e garantire la sicurezza di cittadini ed anziani. Un tavolo di confronto svoltosi alla presenza di esponenti di prefettura, comune, provincia, regione e soprattutto di carabinieri e polizia per un lavoro di squadra a difesa di un fenomeno dilagante. Una raffica di frodi, non solo ad anziani, aumentate del 25% in tutte le marche nel 2023 appena concluso. La preoccupazione è molta perché specialmente i nostri pensionati sono sempre i più facili da individuare e truffarli o raggirarli. I carabinieri sono la forza importante e lo stimolo che ci hanno dato perché parlando ci hanno consentito subito di fare questa iniziativa però noi siamo collegati anche con tutte le altre forze dei carabinieri, della polizia, di qualsiasi altre forze e anche della polizia urbana in modo da poter mandare avanti questa iniziativa. Quotidianamente giungono segnalazioni di persone che lavorano magari al contatore dell'Enel, alle condutture idriche. Normalmente, per prassi sempre, chi opera in questo settore non va a bussare a casa delle persone per entrare e andare a vedere situazioni di dettaglio nelle abitazioni. se non magari mediante avvisi che ci sono stati a monte quindi una campagna di informazione preventiva proprio per predisporre il tutto. Sempre la chiave di lettura è l'anomalia e affiancare alla chiave di lettura dell'anomalia il presupposto che nessuno potrà mai venire a casa sia appartenente alle forze di polizia sia appartenente a ditte di pubblica società di pubblica necessità e nel gas, insomma quelle che siano le utenze di consumo nessuno, anche privato, potrà mai venire a casa a chiedere soldi mai, mai per nessun motivo e questo è per le truffe di persona online vale la stessa cosa nessuno potrà chiedervi mai soldi online a meno che non state effettuando un acquisto o il pagamento di un'utenza. Tutti possiamo essere truffati quindi uno non bisogna vergognarsi di questo il truffato può essere una persona istruita o meno istruita colpisce tutti colpisce soprattutto in un determinato momento di debolezza che la possiamo avere tutti sia perché siamo impegnati in 10.000 attività i truffatori ne mettono in atto 10.000 al giorno su 10.000 vanno sui dati, le percentuali se 4-5 persone ci cascano loro hanno raggiunto il loro scopo semplice e ci provano sempre l'importante è consultarsi non prendere decisioni affrettate perché il truffatore ti fa prendere la decisione immediatamente Noi come Polizia Locale di Ancona è dal 2019 che seguiamo un progetto l'apparenza inganna che è un progetto di prevenzione truffe agli anziani noi svolgiamo degli incontri presso i circoli presso le associazioni, le chiese e spieghiamo un pochino agli anziani quali sono le truffe più frequenti i comportamenti da adottare e comunque li invitiamo a chiamarci sempre 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 abbiamo l'anno scorso anche aperto una pagina web dove ci possono contattare per richiedere degli incontri oppure ci possono lasciare le loro esperienze belle o brutte che siano e cerchiamo di dare il nostro contributo sul territorio essendo i primi quelli cui si possono rivolgere i cittadini sia per strada che tramite telefono noi cerchiamo di fare il possibile e soprattutto cerchiamo quanto più possibile di informarli più possiamo informarli più sono accorti più conoscono le cose più riescono a proteggersi ed ora ci occupiamo di politica perché oggi attraverso un comunicato stampa ufficiale l'assessora delle comune di Pesaro Francesco Affrenquellucci ribadisce come il Movimento 5 Stelle dovrà essere protagonista nella scelta dei criteri del candidato sindaco del centro-sinistra per le elezioni amministrative del 2024 per la Frequellucci per il vicario dei 5 Stelle pesaresi Maurizio Micheletti il PD non può definirli da solo e si chiede che venga convocato il tavolo delle alleanze con i partiti e le liste civiche il comunicato ricorda come il PD sia il partito più forte in città ma si chiede pari dignità nella costruzione del percorso verso le amministrative 2024 seguiamo e attendiamo anche la chiusura del dibattito sul terzo mandato perché se dovesse arrivare il via libera anche per i comuni con più di 15.000 abitanti siamo per la conferma di Matteo Ricci in un clima di continuità studiare politiche efficaci e rispettose dell'ambiente nella gestione del ciclo dei rifiuti e dell'acqua è stato questo il tema del tavolo di confronto fra sindacati e Università di Urbino tenutosi ieri pomeriggio vediamo quanto è emerso in queste interviste Questa giornata che è stata organizzata dalla CGL della Federazione Provinciale ha come tema il ciclo dell'acqua è un aspetto importante che riguarda uno dei beni essenziali della vita dell'uomo ed è importante perché questa risorsa naturale sta diminuendo anche a seguito dei cambiamenti climatici e quindi convegni come questo di oggi permettono di chiarire le cause e soprattutto quali sono le soluzioni per poter far fronte a questa riduzione di questo bene così prezioso l'Università ha sostenuto questa iniziativa perché pensiamo che solo tramite la diffusione della conoscenza, dei problemi e quindi sia possibile individuare quali siano anche le migliori politiche per portare avanti e per aumentare il benessere dei territori e delle comunità Lo scopo di questo incontro che abbiamo organizzato insieme all'Università di Urbino è quello di affrontare il tema relativo appunto al ciclo dell'acqua al ciclo dei rifiuti in un'ottica di carattere provinciale e non solo anche partendo dalla condizione di carattere più generale e nazionale Il tema dello sviluppo sostenibile il tema della tutela ambientale ma allo stesso tempo il tema anche di come risolviamo tutto quello che sono le problematiche legate anche ai bisogni primari dei cittadini che sono ovviamente l'approvvigionamento idrico da una parte ma anche la gestione dei rifiuti che produciamo in quanto esseri umani e anche in quanto diciamo così soggetti di produzione dal punto di vista appunto della produzione del mondo del lavoro vanno incidere e vanno a impattare rispetto alla vita quotidiana ma anche di prospettiva rispetto al fatto che di queste cose occorre occuparsene in che senso occorre occuparsene? Nel senso che viviamo una fase in cui nella nostra regione e nella nostra provincia non abbiamo impiantistica sufficiente e non mi riferisco soltanto a una parte di questi impianti mi riferisco in generale agli impianti di riciclo e anche di riutilizzo delle risorse idriche piuttosto che dell'igiene ambientale per poter gestire diciamo così gli impatti futuri che la nostra vita e che tutto quello che attiene appunto al ciclo dell'acqua e dei rifiuti vanno a metterci nelle condizioni di dover in qualche modo far fronte ovviamente per arrivare a quell'economia circolare che ci permette di ridurre al massimo l'impatto dei rifiuti non riciclabili in un'ottica appunto di gestione moderna di questi tipi di problemi si avvicina il 20 gennaio si avvicina la cerimonia inaugurale di Pesaro capitale della cultura 2024 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono attesi 8.000 pesaresi che però avranno rigidi orari e regole d'accesso alla Vitri Frigo Arena vediamo quali in questo servizio conto alla rovescia per gli 8.000 pesaresi che prenderanno parte alla cerimonia inaugurale di Pesaro capitale della cultura 2024 nella giornata di sabato 20 gennaio il Comune di Pesaro vuole che sia una giornata di festa della città pensata per tutte le generazioni e tutti i gusti rigide le modalità d'accesso alla Vitri Frigo Arena considerando la presenza nel Palasport del Capo dello Stato Sergio Mattarella l'apertura Cancelli inizierà alle ore 8 con accesso alla Vitri Frigo Arena consentito fino alle 10 i cittadini dovranno presentarsi muniti di tagliando digitale o cartaceo e dovranno obbligatoriamente esibire il documento di identità per agevolare i controlli e favorire un accesso ordinato senza congestionare gli ingressi si consiglia di raggiungere il palazzetto in anticipo rispetto agli orari di chiusura Cancelli per arrivare alla Vitri Frigo Arena sarà attivo un servizio navetta a partire dalle 8.30 con corsi ogni 15 minuti che partiranno dal centro storico dal parcheggio San Decenzio da Piazzale della Libertà e da Viale Trieste nel caso i cittadini in possesso di biglietto fossero impossibilitati a partecipare alla cerimonia e volessero liberare il tagliando occorre per chi l'ha ottenuto tramite Viva Ticket scrivere a biglietterie chiocciola amat.marche.it indicando nell'oggetto della mail rinuncia cerimonia inaugurale Pesaro 2024 e indicando i dati del biglietto chi lo ha ritirato nella biglietteria del teatro Rossini o presso tipico.tips dovrà restituirlo negli stessi luoghi all'esterno della vitrifigorena sarà attrezzata una vasta area food che durerà fino a tarda notte perché dopo la cerimonia inaugurale del mattino alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella si canterà dalla 17 con Max Gazzè si ballerà con l'orchestra di Mirko Casadei dalle 20 e poi la grande festa per i più giovani Once a Year con Rosa Chemico con i 17 dalle 23 con ingresso a pagamento e come è stato ricordato anche nel servizio che avete appena visto non solo Mattarella dal pomeriggio a sera sarà anche festa in musica con Max Gazzè Rosa Chemico e Mirko Casadei proprio quest'ultimo chiama raccolta il pubblico per una grande serata di musica e danze Ciao simpatici italiani sono Mirko Casadei vi aspetto sabato 20 gennaio a Pesaro perché per Pesaro sarà una giornata indimenticabile incredibile sarà la giornata inaugurale di Pesaro capitale italiana della cultura 2024 e ci saremo anche noi dell'orchestra Casadei con la nostra musica la nostra allegria i nostri successi Ciao Mare la mazzurca di periferia Romagna e San Giovese Romagna mia tutti i nostri classici vi faremo ballare vi faremo cantare sarà una grande festa con un po' di cultura popolare della mia terra vi aspetto quindi sabato 20 gennaio al Vitri Frigo Arena di Pesaro alle ore 20 lo spettacolo inizia alle 20 si può iniziare ad entrare nel palazzetto già dalle ore 19 vi aspetto mi raccomando e vai con l'iscio è cominciato da dieci giorni sta producendo già risultati confortanti parliamo del progetto Utopia che da questo mese di gennaio è al Parco Miralfiore e ha visto già una bella partecipazione di cittadini pesaresi è partito a fari spenti l'otto gennaio scorso e a dieci giorni dal via il progetto di Utopia al Miralfiore riscuote già l'apprezzamento della città come quest'estate all'alberghiero Santa Marta tanti pesaresi hanno già fatto visita anche alla formula invernale di lavoro giovane e inclusivo con 60 ragazzi coordinati dalla Onlus Gulliver che tengono vivo il movimento del parco anche nel rigido mese di gennaio con un servizio di bar e ristorazione sta andando molto molto bene abbiamo fatto un weekend diciamo molto positivo non ci aspettavamo così tanta gente perché la gente è poi anche molto incuriosita di questa nuova iniziativa che abbiamo fatto noi diciamo che questi ragazzi che sono qua che hanno lavorato sabato e domenica e anche adesso stanno lavorando hanno tre tipi di problematiche diverse dove noi dobbiamo cercare di stargli un attimo dietro uno ha dei problemi loro fisici o altri tipi di problemi l'altro problema sono le scuole che ci mandano dei ragazzi che hanno fatto delle piccole cavolate a scuola e quindi devono scontare una pena quindi una specie di giustizia riparativa terza cosa ci sono i ragazzi che hanno fatto delle cavolate fuori e quindi vengono qua per cercare di riparare al loro diciamo trascorso un po' burrascoso questi ragazzi sono qua e ha andato una grandissima mano sabato e domenica dove abbiamo avuto 100 persone domenica sera cena 70 persone sabato sera cena perché effettivamente questo è un posto molto bello e dobbiamo riscoprire il parco Miralfiore speriamo noi ce la mettiamo tutta siamo partiti alla grande siamo partiti e ringraziamo tutti quelli che ci sono venuti a trovare perché ci danno la forza per continuare e vi aspettiamo sempre numerosi tutte le sere vi aspettiamo concludiamo con lo sport e con il basket perché la VL prova a rispondere alla crisi di risultati con un nuovo acquisto è stato infatti ufficializzato oggi l'ingaggio di Marcus McDuffie alla grande statunitense di 26 anni con esperienze in Europa fra Ungheria Francia e la stessa Italia giocando fra 2020 e 2022 a Piacenza e Napoli McDuffie arriva a Pesaro dopo la prima parte di campionato giocata in Turchia con il Turk Telecom Ancara prendendo parte anche alla Euro Cup e questa notizia di VL conclude la nostra edizione di Rossini News prima serata di Rossini TV che continua però con lo sport perché alle 21 e 20 vi proporremo gli occhi della Tigre il nostro approfondimento sulla Megabox Valle Foglia andando alla conoscenza delle Tigri Biancoverdi questa sera conosceremo l'opposto Lena Gross Charman e poi vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Rossini TV che torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini rassegna stampa dei quotidiani locali che sarà condotto dalla nostra direttrice Emanuela Rossi Ancora sport altra diretta quella di Insieme a Canestro con la nostra Elisabetta Ferri che vi terrà compagnia domani sera giovedì alle 21 e 20 in questa puntata ci saranno come ospiti la giovane guardia della Carpegna Prosciutto Basket Octavio Maretto e l'ex capitano della VL Fabrizio Faccenda oltre naturalmente alla possibilità di interazione in diretta di voi tifosi e telespettatori al numero Whatsapp dedicato 370-366-7210 Ancora una diretta quella di sabato che vi ricordiamo la cerimonia inaugurale di Pesaro 2024 capitale italiana della cultura sarà alla vitrificarena ma sarà anche trasmessa in diretta dal nostro canale 80 a partire dalle 11 anche con diretta Facebook come detto appuntamento a sabato 20 gennaio è davvero tutto per questa sera si conclude qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata insieme ai nostri programmi